Forza Matteo, forza! Il 26 maggio, prima, se toglie burocrazia, come c'era il contratto di governo, l'Italia riparte. Le scuole sicure le abbiamo impostato, chimiche e chimiche di droga fuori dalla storia. In pochi mesi, immigrazione clandestina zerata, sbarchi e sprechi ridotti del 95%. Ce l'abbiamo noi! Quanti qua hanno un lavoro precario o a tempo determinato di poter tornare a fare dei figli? Le navi hanno cominciato a non arrivare indipendenti.